solo io non devi dire a sta c***a non devi dire vi ricordate l'ultima edizione di Temptation Island è passato un bel po' da quando abbiamo conosciuto i due ragazzi che ancora adesso ci fanno sognare parliamo appunto di Mirko Brunetti e Perla Batiero all'epoca erano solo due sconosciuti in cerca di fortuna in cerca di amore che negli ultimi tempi era diventato un po' distratto ma come sono cambiati i due ragazzi in quest'anno sono cambiati tanto vero ricordate a scrivere al programma è stato Perla ragazzo voleva capire se Mirko era il ragazzo giusto per lei ragazzo della vita dove costruire assieme il loro futuro in quel momento il loro percorso non andava tanto bene e si sono allontanati ma i loro sogni sono stati sempre gli stessi fino a quando si sono rincontrati e da allora non si sono più lasciati ora sono più uniti che mai e anche più forti più maturi soprattutto ancora più amati dai loro 500.000 follower che li amano alla follia tanto che i loro sogni sono diventati anche un po' i sogni di tutti quelli che li seguono come sono cambiati i perletti secondo voi i can't make your tower for every brick and every wall all of your defense is cold at the end just hold it on i can't make your own baby it's all so cool but you won't ever be your own i can get a little angry be a little dangerous no matter what i do it all again for us i can be the one who breaks you'll be the one who builds you up you'd be surprised how many lies i've crossed how many lies i've crossed for love i can't make your own pea Grazie a tutti.